Sto uscito a potenziare l'arma a livello 4, fa 107 di danno, sto cercando in modo in vano nel cercare, guarda gli occhiali, ho trovato gli occhiali, consumo di energia al 100%, guarda che boiata. Sto cercando in vano di trovare un'armatura migliore, ma questa armatura l'ho trovata a inizio gioco, ma non ce ne sono di altri miei, questa è la migliore a confronto di tutte le altre, sono riuscito a trovare testa di Crisaide, questa qua, di nano, non so di cos'è, qualcosa, di qualche pietruzzola strana, fa cagare a vedere, infatti fa schifo, cosa dà il set? Da tipo, vediamo, una cagata, vediamo, ah, ricuperiamo assolutamente ogni volta che uccidiamo un nemico, ma poi la difesa è nulla, no, è nulla, classe sentinella ma è zero proprio, non ha niente di speciale, anche sta qua, Cerbero MG, consuma un sacco di energia nucleare, ma difesa minore della sentinella, del gorgone, e cos'è che aumenta i danni quando l'energia è alta, una roba del genere, ma, Ma perché, il migliore sta qua, è migliore, insomma, non ne trovo, non ne trovo di migliori, alla fine è vero, si rimane con solo un'armatura, quella del gorgone, da inizio gioco alla fine, a quanto pare, pecca di questo gioco, eh, ho trovato anche delle armi uniche, Che, ad esempio, è la carmina burana, che non è male, però ha energia da pochissimo, scala competenza alta, è un bastone, eh, un bastone veramente strano, e poi ho trovato, anzi, l'ho presa da dei nemici, arti della metamorfosi, fanno schifo, però ha una scala competenza alta, beh, io andrò a usare questo qua, il solito che sto usando. Allora, il giudice MG, l'ultimo episodio in cui c'era quel boss, l'unico modo per batter, ma, dico, l'unico, è di farlo perdere equilibrio, fatto e fatto giusto, ho fatto, però, purtroppo, per prenderci il braccio, perché mi mancano il braccio, E la versione 2 dell'arma, bisognava tagliargli via il braccio, ma, ma, scusa, con una bestia del genere di boss, uno che non ha mai giocato, devi, cioè, devi, devi saperle queste cose, le devi sapere, Infatti, si potrà fare di nuovo il gioco dall'inizio, come, NG+, NG+, più. La board ha stato spettando per anni fa, a un punto che non è sicuro, ma, siamo stati cortando molti ruoli per spettare tutto, e ora, nulla. Non possiamo ne capire una risposta a anche le più basiche domande, e cosa sta succedendo là, e molti di superiore sono fissi, e, voglio, veramente, La board ha bisogno di riuscire i bambini, e tornare a riuscire, altrimenti, ci saranno un disastro o un mutinio. No, ho fatto l'altro giro, ho fatto l'altro giro, ho lasciato un qualcosa lì, ecco, c'è, e, vabbè, sorpresina, nell'angolo, E faccio così, ho trovato la mia strategia, perfetto, punzecchio a vita, oh. Eh sì, la versione 2, il braccia, bisognava prenderlo, uh, versione 5, spaccandogli le braccia, ma siccome, un colpo one shotta, eh, non recupero, non recuperava molta energia, Eh, l'unico modo è, bisogna avere degli impianti che ci aiutano a recuperare energia, e poi riuscire a tagliare, a tagliare il braccio, purtroppo, non lo so, non lo sapevo nemmeno, e quindi, se uno va a guardarsi le guide, si rovina il gioco, quindi niente. Poi, quando, quelle robe crisalide, no, queste, queste armature qua strana, crisalide, no, erano delle bestie, che, tipo, non uniche, le tro, si trovano, ma, veramente, buggate male, eh, ma, voi non capite, Chiunque l'abbia creata, io pensavo che il boss, fosse una roba, veramente, veramente squilibrata, no, ho trovato dei mostri normali, peggio ancora, proprio, chi le ha create, proprio, voleva fare del male, voleva fare, proprio, voleva farsi anche del male, proprio, per concepire una specie di bestia, adesso voi non vi rendete conto, ma sono veramente buggate, eh, C'ho un precato, Sì, non dovrei essere qua, ecco, no, c'è veramente, ve li farò vedere un giorno, un giorno, perché, faccio incazzare, madonna, sto giorno, No, you believe you have a good reason to be here, but you are not cleared for this area, I'm risking my position just talking to you, Don't you even remember me? I am not sure what you are referring to, I am doing my job here, so don't stretch my patience, this area is under lockdown, I request you leave immediately, Look, I, please, my head, you need to go, we have orders to eliminate any potential threat, the girl in the server room, trespassing, don't want you to end up like that, Hmm, seriously, after all I've done for you, I've been more than patient with you, if you don't remove yourself, I'll have to remove you by force, Oh, l'admina, eh, niente, eh, così va a finire, va a finire così, va a finire, è ovvio che va a finire così. Ecco qua, anche te Naruto, Eh, va a finire così, va a finire così, va a finire così allora. Ecco, non mi ha dato l'arma, E non mi ha dato l'arma, ovviamente, bene, aveva un'arma unica e siccome non aveva abbastanza energia, non l'ho colpito abbastanza, non ho potuto prenderla, ottimo, madonna, ottimo. Ottimo, ho perso l'arma unica, che bello perderne l'arma unica in sto gioco, in modo così patetico proprio, che non mi piaceva tagliare l'arto. Autorizzazione accogliata Ma che c***o Che sbatte Ah, ho aperto la porta di qua Ecco, è così la quest di Irina Se è andata nel cesso Cosa era? Sì, vabbè, dai, droni kamikaze adesso, cioè, vabbè Ecco che arriva quel che esplode Sono per terra, sono per terra, cioè, ecco, sono ancora per terra, non è che sto premendo l'ho schivata, non ho neanche il tempo di reagire, no, cioè Poi Questo episodio, sì, devo lamentare perché sono arrivato a un certo punto in cui riesco a capire com'è il gioco E voi che mi guardate, no, dovete capire perché Se non giocate e guardate basta, è molto probabile che non capite come mi sento io in questo momento Eh, ci vediamo Aumenta il danno, che è? Non funzionano neanche i droni, non funziona Questo salta in aria appena ti tocca Era quello che mi era esploso addosso Ecco, stava per fare i kamikaze, eh, che one shot pure Devo fare così, bisogna fare così, siamo arrivati a un certo momento in cui bisogna fare così Ah, poi siamo andati a recuperare anche tutte le zone, no, con le porte bloccate Maggior parte delle zone per come si è rotto le balle Ma troviamo soltanto iniezioni livello 5 Dico che non è male, eh, inizioni livello 5, però È qualcosa di meglio, vorrei No, 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 no Sì, vabbè, che cazzo è, porca punta Uno alla volta, eh Dai, scemo, tu sei Dove vai? Donna, dove vai? Sì, vabbè Andiamo a fare così Ah Sto male, ragazzo, eh Madonna, quanta vita Madonna, quanta vita Non credetemi come ho fatto a sopravvivere Non so nemmeno io, meno male che non sono morto Perché se no Vabbè, sto qua punzecchia Una corazza totalmente inutile Uhuh, meccanizzato a livello 4 Ottimo Siamo proprio su Questa è un buon Questa è un po' ampio L'ha Questa è un po' ampio Si fosse un po' ampio Quella è un po' ampio ma andrew i presenti myself to the world as i wanted to be seen no mistakes that sort of thing won't happen under my command in my age vanity trying to overcome the shortcomings of resolve with a quick fake patch it's ridiculous in hindsight but we didn't see it how could we not see it failed we failed everybody that is my legacy drop the weapon and stay where you are this sector is under lockdown stop I said drop the weapon now ma va a cagare va mi spacco uno a uno se non mi spaccate voi prima almeno a me non morirò provandoci ho incontrato delle robe che usavano i cheat porca vacca se muoio adesso guarda no e beh sono immortali avete visto sono immortali sono immortali non avete capito niente che va l'altro scemo dov'è ah madonna io sono il punzecchiatore vivo madonna leggendario punzecchia scappo madonna tattica suprema del punzecchiamento totale guarda quando scommetto c'è il trappolozzo si vabbè droni volanti guarda quanto male fa si dorme 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 eh porca vacca dorme sto viscido eh guarda vi spacco uno a uno avete stufato me avete ma sto andando ma che qua guarda Board members Bonham, Green, Fox, Vanderbilt, Nalabi, Ito, and Freeman. Core security level clear. Access granted. Lockdown deactivated. Executive firewall reset to standard parameters. Attention. Lockdown deactivated. Normal operations have been resumed. Please return to your designated work area. Check it here. Check it here. Online. Beh, io sono qua per spaccarvi il grugno a tutti quanti. Guarda, le robe... Così, a caso. Well, ho fatto. Ho spero che sei orgoglioso. Sono parte della macchina corporativa ora. Non è proprio il mio sogno, ma... Una ragione ha dovuto fare ciò che una ragione ha dovuto fare. Grazie. I know che le persone siano dipendendo da me. Non è più la sponja. Ora, il shark. RAAA! Porca vacca stimissimi, merda. Una alla volta, però, ragazzi. Una alla volta, gente. Ok, volete spaccarmi il grugno, però... Se volete, spaccarvi il grugno in fine indiana. Così. Un robottino di merda! Sì, vabbè. C'è, vabbè. Il giro a 360 gradi ha fatto, questo robottino. Anche il drone è abbastanza buggato in sto gioco, eh. Se c'è un dislivello, tira dritto, che è una meraviglia, contro il muro. E ci lascia a morire, ci lascia. Io vi spacco tutti adesso, mi avete stufato? Sì, vabbè. Sì, vabbè. Sì, vabbè. Sì, vabbè. Sì, vabbè. Vabbè. Sì, vabbè. Sistema. Defibrillator online. Resuscitate. 3, 2, 1, charge. Sì, vabbè. Sì, vabbè. Non. Non. Questo non può succedere. Dopo tutto che ho fatto. Ho salvato! Ho salvato! Allora l'ha il progetto Utopia? Ho! Non ho capito, si sono collegati al coso? Si rilasciano le macchine, ho capito che progetto fallimento però Io non ho capire cosa sta succedendo qui Collegata macchina per cosa? Quindi Sally era capo del coso Utopia ma non ce l'ha detto In sto gioco qualsiasi persona è sempre malvagia madonna Palle eh? Uè tu scemo? Se vabbè ecco perché è andato via madonna L'immortale scemo Eh salta dai! Salta mi ha buggato che... E poi? Ti spacco che mi hai fatto pure male Vabbè lui l'ha trapassato io no adesso ci crepo eh Mamma mia Senza... Senza... Senza iniezioni sono... Palle... Questa... 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 Eh... Beckham... Beckham... Questa non parla di tre Questa non parla minchia ovunque Cosa ha aperto? Ma che brutta fine, eh, ragazza? La interazione sociale è più attiva con le networche e i dispositivi di persona a persona. Iniziarono le persone a essere chi vogliono essere, non chi erano. Ma noi stavamo lievati a noi. Finalmente siamo pronti. Il uomo è integrato con le macchine, diventando un'attività. E la madonna! Sì, vabbè. L'ascensione non è nella potenza del divino, ma... Inizia la macchina. Sbucca l'altro, guardalo. Ma io ci crepo adesso. Ma io me lo sento che faccio una brutta fine. Arrivato a sto punto. Io so che faccio una brutta fine. Campo di riedicazione. No, eh, no, eh! No, oh, oh! Facci piano, eh! C'è nell'angolo, brutta merda! Eh, vedi, io punzecchio! Eh, questa è la mia tecnica suprema, eh! Non mi potete dire nulla perché... E' un punzecchio! Eh, eh! Non mi dite nulla! Non potete dirmi niente! Devo trovare la mia arma definitiva, il martellozzo, che non è versione 2, purtroppo. Tutto andato indietro! Caffa! Oh, un po' di recupero. Dai, sale di merda! Poi lo risponde! Ahahah! Scomparse, eh! Scomparse come scomparsa! Allora, no, uno a uno me lo sono dovuti rifare, eh! Uno a uno me lo sono dovuti rifare! Dai, vieni qua! No, sta lì il pezzo di merda! Non c'è un po' di rinós! Non c'è un po' di tossione! Non c'è un po' di rasgare! Non c'è un po' di rasgare! eeeh good cause one shot da ma eh pfff what no eh questo è abbastanza sufficiente tu stai pensando cosa faccio in order to stop you keep pushing me è stato desbloccato eh Eh ma sono in due questi qua,son bastardi,si siete in due Oh si sono separati,si sono separati,bella Si vabbè dai ragno che non si colpisce col coso Aspetta aspetta sta venendo solo uno,sta venendo solo uno,sta venendo solo uno Che male però eh Mamma mia stavo per morirci Sì va bene non ci credo no 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 Non ci credo gente non ci credo Dai non spiegherò perché Perché non ha subito contraccolpi,me lo spiegate perché Perché tutti i ragni subiscono il contraccolpo e quello in particolare no mentre sta facendo l'attacco Che ma perché devo rifarmi,no devo rifarmi di tutti da capo adesso madonna Guarda questo qua subisce il contrattacco,quello lì no Vabbè affanculo va Palle dal inizio Vabbè 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 Vabbè